Ciao ragazzi, in questo video andrò a parlare di come questa collezione NFT ha fallito il suo mint, di come può essere un caso studio positivo e del perché ho comprato 10 NFT di questa collezione. Il progetto è Fableborn e ne ho parlato su questo canale più e più volte, ma in questo video vi svelerò dei dati estremamente interessanti, quindi vi consiglio di guardare tutto il video, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto per non perdervi aggiornamenti e di entrare nel server Discord di Web3 Gaming Italia, dove troverete altri appassionati del Web3 Gaming italiani. Voglio partire da questo tweet di Apix, che è un membro della WolfsDAO, di cui faccio parte e vi consiglio assolutamente di andarlo a seguire perché fa degli ottimi thread su giochi Web3. Su questo canale parliamo anche di Free Mint, ma il caso studio di Fableborn era di un mint a pagamento e che ha fallito di mintare. Quindi c'erano solo 2.023 pezzi in vendita, ma è successo qualcosa di strano perché non sono riusciti a venderli tutti. Come vedete il prezzo della T1, quindi della whitelist, che permetteva di comprare per primi questi NFT, costava 49 Matic, che sono circa 25 euro. La T2, quindi quelli dopo, era 52,50, quindi veramente poco di più, 1,50 euro di più. E nella public costava 70, quindi leggermente di più perché siamo sui 10-15 euro in più rispetto al mint, che non si parla di tantissimo, però la public aveva un prezzo maggiorato. La community è stata felice di comprare i T1 e i T2 e non erano interessati a vendere sul mercato secondario perché potevano comprare a 50 e mettere subito a 60, quindi al di sotto della public sale. Ma nonostante ci fossero alcuni che appunto mettevano a 60 e altre persone compravano a 60 al posto che comprare a 70 in public, il floor era rimasto comunque sotto i 70 Matic e nessuno comprava in public. Quindi si aveva un mint che non stava andando avanti, un floor che era al di sotto del prezzo della public face, però la community era felice perché comunque il floor era sopra quello che avevano comprato e gli investitori erano contenti. Cosa ha fatto Fableborn? Ha tagliato la supply, quindi ha deciso di non vendere più 2.023 pezzi ma di venderne meno. Per l'esattezza come vedete qui 1.392, quindi una collezione da 1.400 pezzi, è veramente bassa e che ha fatto leggermente pampare il prezzo al di sopra della public face, quindi sui 70-80 Matic. Nel video di oggi andremo a vedere tutte le considerazioni attorno a questo mint. Infatti vi voglio dire che fino ad adesso ho comprato 3 NFT di cui 2 erano in whitelist, quindi ho pagato 50 Matic, mentre il terzo che ho comprato era 65. Adesso ne andrò a comprare in diretta altri 7 circa per arrivare a 10. Vi farò vedere le motivazioni importanti per cui sto facendo questo acquisto e quali sono le mie opinioni ed intenzioni future. Quindi procediamo con un bellissimo sweep mettendo nel carrello intanto 7 pezzi, quindi 4, 5, 6 e 7. Questo mi sembra molto figo. Andiamo nel carrello, sono 300 dollari in tutto. Andiamo a completare l'acquisto. 9 centesimi di fee, quindi Matic è veramente fantastico ed è uno dei motivi per cui Polygon sta facendo un lavoro incredibile per il Web3 Gaming. Andiamo a comprare sweep di 7 NFT completato. Li ho già trasferiti nel ledger, su cui c'era anche l'ottavo di cui vi parlavo prima, preso a 49 Matic, quindi trasferiamo anche questi due nel ledger così li abbiamo tutti al sicuro. Mi raccomando se ancora non avete un ledger o non sapete che cos'è, andate a vedere questo video sul mio canale perché è molto importante tenere i propri NFT al sicuro. Quindi io vado sempre a comprare con un Barner Wallet, uno su cui ho poche cose di valore giusto per comprare e poi trasferire al ledger che non collego da nessuna parte. Trasferiamo questi due oggetti, vedete che costerà anche pochissimo, addirittura dice un centesimo di dollaro. Andiamo a leggere il tweet di Spark e poi vi dirò anche le mie considerazioni. Intanto anche Spark fa parte della Wolf's DAO, che è una delle migliori DAO nello space gaming secondo me e vi consiglio assolutamente di seguirlo perché lui è uno dei GOT degli investimenti. Non è un consiglio finanziario, è giusto seguitelo per curiosità, per vedere questi casi studio. Dice che il gioco è giocabile ed è molto figo, ha ricevuto 5.5 milioni che io vorrei correggere in 7.8, che è veramente tanta roba in un bear market, su cui ovviamente avete già la mia opinione su raccogliere 8 milioni di dollari, vuol dire tante cose e ve ne parlerò anche in un video futuro, quindi mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdervelo. Qui nello screenshot faceva vedere 80 Matic, mentre io ne ho appena comprati 7 a 65 Matic. Lui dice che ne ha presi 30 ad una media di 61 Matic, dovrò raggiungerlo piano piano, appena il floor scende ne compro ancora di più. È uno dei pochi progetti in cui lui si è buttato e onestamente ragazzi lui è uno dei miei preferiti nello space. Aveva scritto le sue idee su Fableborn prima del Mint e che lui holderà a lungo termine. Dice che è figo il gioco perché è un'intersezione tra Diablo e Clash of Clans. Avete visto anche sul mio canale c'è il gameplay del gioco, quindi vi consiglio di andarlo a vedere. Hanno un team di qualità e hanno i soldi per fare user acquisition, quindi fare advertising e acquisire giocatori. E quindi resistere anche potenzialmente alle difficoltà del beer market. Ora le mie considerazioni finali. 8 milioni di fondi, secondo me è un dato importantissimo. Un team di esperienza e un concetto di gioco molto interessante. Ad un prezzo super abbordabile per quanto mi riguarda. Quindi credo assolutamente che continuerò a comprare questi NFT finché si è nel range di 30-50 euro. Mi raccomando fate sempre i vostri calcoli. Io li faccio in base al budget che ho da investire su questi NFT. Quindi mi raccomando non è un consiglio finanziario ma è un consiglio di tenere d'occhio questo progetto e vedere come andrà. Perché magari potrebbe fallire, perché nulla è certo, ma potrebbe avere un grande successo. E quindi in futuro potremo essere qui a riparlarne. Tra l'altro avevo dato delle whitelist nel server Discord di Web3 Gaming Italia in modo totalmente gratuito. E il prezzo in questo momento è 10 euro sopra al costo per ottenere l'NFT con la whitelist. Quindi sono anche contento che gli holders dentro Web3 Gaming Italia abbiano questi NFT ad un prezzo vantaggioso. Quindi mi raccomando se ancora non ne fate parte entrate su Web3 Gaming Italia. Il link lo trovate in descrizione. Ed iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video sul Web3 Gaming. Vi consiglio di guardare la playlist di Fableborn perché ho già parlato molte volte di Fableborn su questo canale. Oppure il video che vi consiglia YouTube. Mentre scegliete quale guardare io vi saluto e ci rivediamo al prossimo video.